Il fatto che al Senato qui dietro in questo momento i senatori stanno proponendo una legge che con la scusa della diffamazione mette il bavaglio a chi fa informazione sul web. Adesso sembra che vogliano solo farlo per i siti, le testate giornalistiche che non significa nulla, che chiunque di noi ha una testata giornalistica, il problema vero è che con la scusa di promuovere la libertà di informazione stiamo davvero uccidendo le nuove forme di informazione libera sul web. Non c'è ragione per farlo, se non la paura che il web magari anche nella prossima campagna elettorale possa consentire a qualcuno che se lo merita di assumere la guida del paese.